Samsung Galaxy Note 4 Anche con Sky Go Tutti sotto al palco Ci vuole un eroe C'è, scopri tutta la gamma nelle concessionarie Kia, the power to surprise Allora, raccontami un po' come va con quella ragazza? Sai, non è più la mia ragazza Hai fatto proprio bene a lasciarla, era una grandissima putt Ora è mia moglie Volevo dire Put your hand up in the air Put your hand up in the air Put your hand up in the air Allora, a questo punto ti do un consiglio Non fidarti delle persone che cambiano idee ogni tre secondi Ah, ok, grazie Anzi, no, no, scusa, fidati Ah, ok, ok No, no, volevo, magari no Ma, ma Cara, sono pronto, andiamo Ma com'è, esci con quelle scarpe? Ah, mi critichi sempre Non è vero, dei tuoi capelli di b***a non mi hai detto niente Ma che c***o sono pelato Ehi, sai decat, che cosa hai fatto? Oggi tornato dal lavoro, ho investito un unicorno No, non ci credo Hai un lavoro Papà, è pericoloso lo squadro? No figlio, senza la musichetta no Ehi, che lavoro fai? Exantic Fruit Beach Manager Oh, cioè? L'omino del cocco bello Ah Amore, secondo te ho troppo trucco? Beh, dipende Hai intenzione di andare ad uccidere Batman? Arudururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur WEEEEEEE, e quali sono? Danneggio la memoria E la seconda è Cosa? WEEEEEEE, e della marihuana WEEEEEEE, se ne ho quattro di voglia WEEEEEEE Samsung Galaxy Note 4 Anche con SkyGo Tutti sotto al palco Ci vuole un eroe Scopri tutta la gamma nelle concessionarie Kia, the power to surprise